Quando una sconfitta si trasforma in un successo, è il caso della nazionale italiana, buttata fuori con disonore dal mondiale, ma riabilitata dalla comunicazione, anzi dalla pubblicità su scala internazionale. Per la verità dobbiamo dire grazie a Luis Suarez, l'attaccante dell'Uruguay che colto da un improvviso crampo allo stomaco pensò di mangiarsi a crudo la spalla di Chiellini. Il gesto è costato quattro mesi di squalifica all'attaccante uruguaiano ma gli ha dato una popolarità che lo rimborsa adeguatamente, se non di più. Però la popolarità l'ha data anche all'Italia, in tutto il mondo. Pensate un po', le agenzie di pubblicità hanno sfruttato, stanno sfruttando a piene mani questo episodio, traendone spunti commerciali, nuovi slogan che stanno anche facendo impazzire la rete. Al ristorante ormai non si chiede più una chianina, ma chi vuole una bistecca chiede una chiellina, pensate un po'. Il New York Post, uno dei più importanti giornali del mondo, ha dedicato una pagina a Chiellini con tanto di foto con le impronte dei denti di Suarez sulla sua spalla. È il titolo, tutti vogliono mangiare italiano. Italy ovviamente ne ha approfittato ed ha fatto sua la pagina trasformandola in pubblicità con il suo marchio. La Barilla ha salutato il rientro a casa della Nazionale con l'immagine di 11 rigatoni, uno morsicato. La ditta che produce le magliette degli azzurri invece sostiene che i nostri calciatori stanno così bene con quelle maglie che è difficile resistere alla tentazione di prenderli a morsi. Una nota multinazionale dolciaria ha deciso di promuovere i suoi prodotti con lo slogan «Meglio un morso al nostro snack che alla spalla di Chiellini». Ed infine, ma non è l'ultima, un'agenzia inglese di lingue ha deciso di lanciare l'insegnamento dell'italiano. Ecco una nuova lingua da mettere tra i denti. Insomma, tutti hanno dimenticato la nostra figuraccia. Tra il calcio nel sedere che ci ha dato il Costa Rica e il morso di Suarez Zacchiellini fa più notizia il morso. Un consiglio allora alla federazione. Inutile cercare il nuovo allenatore degli azzurri. D'ora e poi, per passare alla storia, il nostro calcio dovrà soltanto dotarsi di magliette un po' più scollate.